Andrà a fare ciclo sanitario? Sì Ok, è arrivato al SMS Ok, se ci portano dei problemi se no può registrarsi al lì se no arriva lì al SMS Sì, sì, sì Questi sono quelli che hanno già vinto il... Ah, ok, ok Però non la dia quello lì Però non posso Ma non sarà dal suo dentro? No, non riusciamo anzi Perché voi se svolendo quelli che vengono qua sono anche quelli che camminano male Così Non si chiama come la prima metà No, allora 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 Grazie a tutti.